oh allora rifalla terza io sto nascosto dietro l'altro eh bravo ho detto che sto nascosto dietro l'albero te l'ho detto ma è corta è corta troppo corta prima in quinta l'ho fatto in quinta e niente in quarta ma come prima no abbiamo la colore perché dove vengono da due